In attesa di individuare le nuove sedi dove fare i tamponi devono recarsi a fare il tampone presso gli hub di Lecce e Taurisano sono i cittadini che hanno avuto la convocazione da parte dell'ASL, la comunicazione arriva dalla prefettura dopo l'incontro che si è svolto con il direttore generale dell'ASL Rodolfo Rolo, il sindaco Carlo Savemmio alla presenza dei vertici, le forze dell'ordine, del vice comandante della scuola e cavalleria di Lecce e del comandante della polizia locale e del sindaco di Maglie. Il vertice è stato convocato al prefetto Maria Rosatrio e si è reso necessario a causa delle lunghe file di attesa in particolare nelle vicinanze della postazione dei via caduti in asseria presso il palazzetto dello sport della provincia di Lecce. Nel corso dei lavori finalizzate l'individuazione di nuove sedi del territorio provinciale a destinare l'esecuzione dei tamponi molecolari è stato ribadito che i siti attualmente operativi di Lecce e Taurisano sono destinati esclusivamente alle persone che su esplicito invito dell'ASL o del medico curante devono effettuare il tampone come precisato al Dipartimento di Prevenzione allo stato attuale i cittadini già risultati positivi con tamponi effettuati presso le farmacie e i laboratori di analisi non necessitano di conferma con tampone molecolare ma devono considerarsi in isolamento secondo le regole vigenti.